Amici e amici salve a tutti come sempre ben ritrovati nel canale di che te lo dico a fare stavo giusto appunto guardando un video su youtube di un altro canale nel quale sono iscritto nella fattispecie si tratta di un canale che fa informazioni, un emittente radiofonica che in questi mesi ha fatto veramente faville con veri servizi giornalistici forse sono fra i pochi che dicono le cose che mi stanno e in questo video lo speaker intervistava Metlius Alvino un personaggio che definirei Prezzemolino che troviamo un pochino su tutti i social facebook, youtube, sta dappertutto e che a pieni bolmoni emana i suoi editti ha investito nella scena pubblica italiana anche in carichi molto molto alti e importanti e ora sta lì che insomma fra tutti quanti dice la sua si parlava nel video di vari argomenti tra i quali del miele cinese prodotto che dalla Cina sta arrivando pare adesso in Italia e la cosa che sta suscitando l'attenzione è dovuta al fatto che non si tratta di un miele prodotto dalle api ma semplicemente dall'uomo ovvero tramite la miscelazione di alcuni sciroppi e zuccheri gli danno una scicherata, lo mettono in un flacone, in una bottiglia e poi insomma te lo ritrovi al supermercato per chi mi conosce è già nota la notizia che io da qualche tempo mi trovo nella penisola iberica e devo dire che questo prodotto già lo conosco almeno da un paio d'anni tant'è che circa due anni fa durante una delle mie tante incursioni nel supermercato facendo la normalissima spesa settimanale passando proprio per il reparto dolcificanti, miele, zucchero e compagnia bella e soprattutto nutella ecco ho messo nel carrello questo coso qua vedete l'ho anche aperto è in tutto e per tutto simile a un vasetto di miele che è questo qui sulla sinistra però quello che mi ha spinto a metterlo nel carrello così passando e buttando proprio un occhio è stato il prezzo perché mentre il miele, miele ora passatemela mentre il miele che normalmente compro costa circa 4 euro ma che schifo di miele di compri questo c'è ragazzi questo mi posso permettere questo qua costava attorno ai 2,50 euro ora mi lapiderete ma sei un cretino con 2,50 euro che cosa pensavi di trovare sono stato ingenuo ok ho sbagliato non lo faccio più l'ho fatto una volta e non lo faccio più chiedo scusa comunque sia e non compro più nemmeno questo d'accordo allora cos'è accaduto praticamente prezzo assolutamente di tutto rispetto visto che il tappo è uguale a quello del miele la bottiglietta il vasetto è uguale a quello del miele sono di vetro l'etichetta è molto simile a quella del miele poi ovviamente uno l'inghippo lo scopre quando va a prendere un cucchiaino lo immerge qua dentro e se lo mette in bocca beh diciamo che il sapore ci assomiglia leggermente ma differisce in qualche cosa cioè una cosa o è miele o è un'altra cosa e alla fine si sente per quanto la possano modificare mettere insaporitori, aromi e compagnia bella la nutella è una cosa quell'altra cosa marrone è un'altra ok e allora qui che cosa è accaduto che scoperto l'inghippo ho detto andiamo a vedere che cavolo ho comprato e quindi luogo di produzione Siviglia una città spagnola cosa che significa che in questa città in questo stabilimento ricevono autocisterne cariche di questo liquido o semplicemente lo miscelano lì e poi lo fanno l'invaso quindi lo vanno a mettere in questi vasetti tappano etichetta cartone e spediscono al supermercato tra gli ingredienti cosa interessante troviamo semplicemente non c'è altro sciroppo di glucosio fruttosio e miele ora gli ingredienti dobbiamo dire subito che sono elencati in ordine di quantità quindi si suppone che lo sciroppo di glucosio sia la stragrande maggioranza di ciò che c'è qua dentro il fruttosio stesso discorso sarà meno il miele può essere una goccia nel mare capitemi cioè la quantità di miele non è assolutamente comparabile agli altri due ingredienti che sono stati elencati in precedenza può essere una goccia può essere mezza goccia può essere semplicemente l'odore del miele comunque loro hanno la facoltà di poterlo riportare perché ci hanno messo una goccia poi questo qua ovviamente un chilo non è miele è un'altra cosa sarà uno sciroppo di vari zuccheri per nobilitare un pochino la situazione dopo aver scritto sciroppo di glucosio che magari molti possono storcere il naso quando leggono sciroppo di glucosio ma che cos'è questa cosa chimica questa porcheria allora il glucosio è semplicemente uno zucchero semplice ed è uno dei due componenti dello zucchero che tutti quanti abbiamo in casa ovvero lo zucchero bianco che mettiamo nella tazzina di caffè lo zucchero bianco che mettiamo nella tazzina di caffè è l'unione tra sciroppo di glucosio e fruttosio quindi due zuccheri semplici uniti in questa etichetta curiosamente ci troviamo sciroppo di glucosio che sarà 999,9 grammi poi fruttosio che sono quattro cristallini di zucchero bianco messi là che al loro interno ovviamente contengono la molecola di glucosio e la molecola di fruttosio quindi ci entra e poi l'odore del miele così hanno fatto questo prodotto non si parla di coloranti e aromi per cui nella mia immensa ingenito voglio pensare che la colorazione si ottenga tramite caramellizzazione ovvero riscaldano lo sciroppo fino al punto che questo qua si diventa più scuro si tende ad assumere un colore ambrato questo lo potete fare semplicemente con lo zucchero bianco lo mettete in un pentolino con un po' d'acqua quando lo andate a riscaldare si scioglierà e man mano che l'acqua evapora quello che resta resta di questo colore quindi è plausibile che questa colorazione molto simile al vasetto di miele si ottenga in questa maniera del resto potrebbe essere anche una maniera economica e non troppo contaminante per un prodotto per renderlo simile almeno nell'aspetto a prima occhiata a quello che è il miele ora il miele a differenza dello sciroppo di mescole di zuccheri come vedete cristallizza questo è il miele o quantomeno c'è una quantità tale di miele per cui si va a cristallizzare in base evidentemente a un cambio di temperatura o comunque al depositarsi nel fondo di quelle che sono le sostanze principi che lo vanno a far cristallizzare in entrambi i vasetti che visti di fronte sono quasi identici visti di lato stesso discorso visti di lato B insomma se non ci fosse per la cristallizzazione a un certo punto sarebbe impossibile dire qual è l'uno e qual è l'altro beh entrambi i vasetti tra le varie cose che vanno a snocciolare nelle etichette dichiarano di non avere provenienza UE quindi sono prodotti con miscele anche questo qua non è miele proveniente di unica provenienza qua dice che è un miele prodotto con la miscelazione vedo di farvelo vedere dove stava allora mescla allora proprio qua qua sopra vedete qua mescla che significa mescola de mels di miele originario e non originario della Unione Europea ok questo significa che c'è di tutto semplicemente che c'è una goccia di miele europeo e poi pure qua il 99% sono mieli non europei quindi può essere tranquillamente un miele che viene certificato come miele da qualche altra parte probabilmente in Cina o chissà dove arriva con la sua bella certificazione di miele e poi per renderlo tale o comunque vendibile in base a quelli che sono gli accordi della comunità europea accordi internazionali eccetera lo vanno a miscelare con un miele europeo non si riporta in nessun posto le percentuali di miscelazione quindi pure qui può essere una goccia di miele europeo prodotto in Spagna visto che sto in Spagna e poi il 99,9% può essere un prodotto certificato come miele proveniente dall'altra parte del mondo quindi da bora a bora mettiamo magari fosse sarebbe già buono però insomma punto interrogativo quello che so è che questo costa 4 euro e mi viene venduto come miele questo qua costa 2,50 euro e nel momento in cui io passo dal corridoio del supermercato lo vedo tale e quale senza stare lì a guardare le etichette e lo prendo e me lo metto nel carrello poi c'è chi è avvezzo a comprendere anche il sapore di cosa mangia c'è tanta gente invece che semplicemente butta dentro fino insomma alla youtube anche io per dirne uno e poi insomma butta fuori in questo processo non si rende conto di nulla però insomma si fa fregare d'accordo state attenti a quello che vi spacciano per una cosa o per un'altra perché l'etichetta va letta ma soprattutto va interpretata perché nemmeno questo secondo me è miele il miele purtroppo è quello che io prendo direttamente dall'arnia arnia si chiama mi pare di sì quando vedo l'ape che sta là che l'ha appena fatto lo centrifugo e quello è miele tutto qui quindi vedete voi d'accordo comunque bravi i signori del network radiofonico che continuino così anche se purtroppo ignominosamente li hanno censurati e bloccati per 24 ore li hanno cancellato il canale come molti di voi sapranno ma quelli sono signori che meritano l'attenzione meritano il supporto e meritano che noi come cittadini possiamo essere orgogliosi del lavoro che fanno d'accordo con questo è tutto un saluto e alla prossima ciao